La Sicilia torna a tremare. Nelle ultime ore si sono verificate due scosse sismiche nel sud-est dell'isola. La prima, di magnitudo 4,1, è stata registrata alle 21.26 ieri sera in provincia di Catania. L'epicentro, calcolato a 10 chilometri di profondità, è stato individuato a 4 chilometri a sud-est da Mazzarone, ultimo paese della provincia di Catania al confine con quella di Ragusa. Il sisma è stato avvertito in molti centri della Sicilia orientale e molte persone sono uscite in strada. La scosta è stata anche percepita in maniera nitida allicata, in provincia di Agrigento, dove diversi cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine per avere ulteriori informazioni. All'albo, un'altra scosta di magnitudo 2,9 è stata registrata a 5 chilometri a nord-est di Rosolini, in provincia di Siracusa. L'evento sismico, avvertito alle 4.46, è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri. Fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze. Non si segnalano, infatti, danni a persone o cose. A muoversi è la faglia Alfeo-Etna, una enorme struttura sismogenica ubicata nel mar Ioni occidentale che corre anche lungo i Monti Blei. È questa la spiegazione dello sciame sismico che nelle ultime 24 ore ha interessato la Sicilia sud-orientale, tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa. È uno studio pubblicato lo scorso 10 marzo sulla rivista internazionale Geoscienze, che porta la firma anche dal professore Carmelo Monaco, del Dipartimento di Scienze Biologiche e Geologiche Ambientali dell'Università di Catania, a studiare il funzionamento di questa grande faglia. I dati geologici e geofisici acquisiti a mare con diverse navi oceanografiche a partire dall'agosto 2014 mostrano come la zona di deformazione della faglia Alfeo-Etna modifichi chiaramente il fondare marino a largo della costa ionica, collegandosi lungo la timpa di Acireale con i sistemi di fagli attivi del versante orientale dell'Etna.